Sabato 25 settembre ore 21, ricordiamo tutti insieme la giornata mondiale della Tassia. La speranza va in scena, una notte a teatro per sostenere la ricerca. Sabato 25 settembre l'appuntamento è stato voluto da Sabrina Boscaro, una donna che conosce bene questa malattia, con la quale convive da tempo, con tutte le difficoltà quotidiane che comporta. Una patologia altamente invalidante, ma che Sabrina prende con le unghie mostrando una gran voglia di vivere. La sua voglia di combattere è esplosiva, tanto che riesce attraverso video che pubblica sui social ad avere tantissimi fans, persone che come lei ogni giorno combattono e semplici utenti che la stimano. Sabato sera ha organizzato una serata al teatro, un appuntamento realizzato con il teatro dei Curiosi Associazione Culturale, con Gianni Mazzucato e Andrea Masiero. Il ricavato della serata sarà devoluto alla Fondazione Acaref per la ricerca sulle malattie attassiche. L'appuntamento è al Teatro di Vigonza, in provincia di Padova.